...e' una posizione caratterizzata da una bella azione di Arnaldo Pambianco, fuggito con Zamboni, sulle Sant'Elia. Il Romagnolo è ripreso proprio in vista del traguardo e sul lungomare, Valdemaro Bartolozzi, che diventerà uno dei più apprezzati direttori di Ammiraglia, brucia Benedetti, che manca il bis, come pure con Terno, giunto Terno. Grazie a tutti.